Ciao, ti do il benvenuto in questo video in cui voglio parlarti di un'attivazione energetica dedicata all'Arimar. Questa attivazione è un potenziamento del flusso cristallino dell'Arimar che aiuta a stabilire una maggiore connessione tra te e questa pietra, che viene chiamata anche la pietra di Atlantido, la pietra delfino. È una pietra molto particolare perché possiamo andarla ad utilizzare proprio per riequilibrare determinate energie e per connetterci con quelle che sono le vibrazioni del mare e del cielo. Si dice appunto che l'Arimar ci connette fortemente con quella che è la saggezza dell'antidea. Se hai seguito con me l'attivazione delfini di Atlantide, hai avuto proprio occasione di lavorare con l'Arimar e questa attivazione va a potenziare ulteriormente questa connessione. Io amo molto questa pietra e per questo ho deciso di ricevere questa attivazione, che è una pietra particolare perché connette sia l'energia dell'elemento acqua che l'energia dell'elemento fuoco. Infatti questa pietra la troviamo in una zona vulcanica, la troviamo proprio in una zona in cui l'acqua e il fuoco sono due elementi molto importanti. Infatti che cosa fa? Va a calmare tantissimo, a raffreddare, a calmare la rabbia, va a alleviare lo stress, le paure e proprio va a aiutarci ad allineare il nostro corpo energetico, fisico ed emotivo a delle energie più fluide, che sono quelle dell'acqua. E' strettamente collegata anche all'energia del divino femminile, ci aiuta proprio a rilasciare quelli che possono essere degli schemi emotivi, degli schemi proprio di comportamento che ci portano a degli squilibri emotivi e ci aiutano a comunicare con coraggio, con fluidità. Infatti è una pietra strettamente collegata anche al chakra della gola. In generale lavora con tutti i chakra alti e quindi dalla gola in su diciamo e ci consente proprio di andare a riequilibrare queste energie. In questo sistema che viene proposto vengono dati diversi metodi di lavoro con il Larimar in modo da poter lavorare con l'Arimar anche se non abbiamo questa pietra con noi. Quindi è un'attivazione molto bella che appunto io ho utilizzato tantissimo in sinergia, utilizzo in sinergia con il sistema dei delfini di Atlantide e che ci permette come tutte le attivazioni dedicate ai cristalli che vi proposto e che vi proporrò, proprio di andare a sentire maggiormente quel cristallo. Queste attivazioni sono molto importanti se ami lavorare con i cristalli e connetterti con loro perché ci fanno sentire bene quella vibrazione, poterla riconoscere e anche puoi scegliere nel momento in cui dobbiamo andare a lavorare fisicamente con i cristalli. Quindi questa è l'attivazione. Ovviamente se vuoi sapere di più su cosa sono le attivazioni energetiche trovi il video qui alla fine di questo video così puoi capire meglio di che si tratta. A presto!